Concreto, tangibile, rigido, così come le bare che custodiranno la gioventù rubata della 22enne Margherita Quattrocchi e della 27enne Lorenzo Dagata. È il giorno del dolore materializzato, dei funerali di due dei tre giovani inghiottiti dal mare in burrasca che stavano ammirando con Enrico Cordella, il 21enne che ancora non è stato restituito dal fondo dove i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania stamattina all'alba hanno ripreso le ricerche. È il giorno del lutto cittadino tirato per i capelli, deciso in un martedì che suona fastidiosamente tardivo, perché il cuore dell'amministrazione di Acireale non ha battuto d'impeto, subito, senza tentennamenti, nell'immediatezza della certezza della tragedia, già reale e opprimente da lunedì, quando sono stati rinvenuti i corpi di Lorenzo, prima e Margherita, alcune ore dopo, quando è stata recuperata la Panda Verde dall'imbocco del porticciolo di Santa Maria la Scala, dall'ultima dimora terrena dei tre giovani accesi. Nel pomeriggio, sempre voluta dal sindaco Stefano Lì, che con la sua giunta e il comitato organizzatore si è riunito ieri mattina, ci sarà una fiaccolata sul molo dove la madre di Enrico attende ancora che gli venga restituito il figlio, ormai diamante conficcato per sempre nel suo cuore, pietra preziosa in uno scrigno al quale solo lei potrà accedere, col quale solo lei potrà convivere. E il carnevale non si ferma. Dicono perché così avrebbero voluto i giovani scomparsi e quelli che li piangono. Non si ferma fra l'infuriare delle polemiche, che hanno spaccato in due una comunità e le altre coinvolte da una notizia che ha turbato, inquietato. Una comunità già provata dalle sofferenze causate dal terremoto della notte di Santo Stefano, che ha colpito duramente il territorio acese. E' quel che succede quando la morte bastarda ti obbliga a guardarla negli occhi, a temerla per la sua imprevedibilità, indifferenza, spietatezza. La morte bastarda che ti fa sentire vulnerabile e impotente quando invece vorresti essere fortezza inespugnabile per i tuoi figli, per i tuoi cari, per i tuoi amici. E allora c'è il silenzio, o l'urlo, o la comprensione, o l'accusa.